Siamo ancora incontrate con questo giardino dove questa è la via dove a causa di un mancato canalone fatto a monte ogni pioggia diventa motivo di preoccupazione e questa strada si trasforma in un vero e proprio fiume qui ci possono vedere i danni procurati dall'acqua e tutto il materiale che viene trasportato ogni volta fino a causare veri e propri cumuli di terra di detriti che impediscono la normale circolazione. E' un quartiere lottizzato nel 2005 dopo circa 15 anni già verso in queste condizioni. Eccoci qua all'ingresso di uno dei quartieri residenziali più nuovi della città di Corigliano in Corigliano con il suo giardino che come si può vedere presenta dei ampi tratti di sbottamenti, una semplice pioggia che è avvenuta ieri notte. All'indicato del quartiere... Tutto in questo Lavaria